salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi parliamo di mavic air 2 dalla sua funzione a pass che attualmente come tanti di voi già sanno ha un piccolo limite mentre magari tanti nuovi utenti di questo drone non sanno c'è questa funzione che è quello che permette come sapete al mavic air 2 di aggirare un ostacolo perché è questo mavic air 2 a due diciamo sistemi di sicurezza uno quello di fermarsi quando vede un ostacolo quindi avvisarvi con i bip e via dicendo e la funzione a pass che quello che è insieme al rilevamento degli ostacoli permette al drone di aggirare l'ostacolo ed è questo il limite del mavic air 2 un piccolo limite che entra in gioco quando registriamo in 4k 60 fps sì perché in quel caso il drone non aggirerà l'ostacolo ma si fermerà come se non avessimo attivato la funzione a pass quindi ragazzi adesso facciamo una prova giusto per farvi capire e rendere meglio l'idea di cosa sto parlando quindi adesso mettiamo in volo il mavic air 2 e facciamo questo piccolo test e poi ne parliamo ancora a fine video ok ragazzi il mavic air 2 e qua fermo davanti a me se io entro nelle impostazioni vedete che ho attivato sia rilevamento degli ostacoli che sistema avanzato di pilotaggio assistito quindi attualmente il mavic air 2 dovrebbe sia rilevare gli ostacoli che aggirarli quindi non ci resta che provare adesso me lo faccio venire addosso e vediamo come si comporta e vedete che il mavic mi ha aggirato ok adesso ritorniamo indietro lo rimettiamo nella stessa posizione di prima vado a selezionare 4k come prima ma metterò però 60 fps e adesso vengo ancora contro di me ok guardate vedete che il mavic arriva e si ferma cioè la funzione a pass con il 4k 60 fps viene disabilitata infatti adesso guardate se io vado a riselezionare i 30 fps e faccio venire il mavic verso di me ecco che il mavic mi ha aggirato ok quindi ragazzi adesso faccio atterrare il mavic e poi tiriamo le conclusioni insieme ok quindi ragazzi questo è un video semplice tanti di voi sicuramente già lo sapevano non è una video scoperta è solo una cosa per spiegare magari a tanti nuovi utenti di questo drone che c'è questo piccolo limite e che magari mentre lo stanno utilizzando vedono di aver attivato la funzione a pass e questa non funziona quindi pensano che ci sia un malfunzionamento proprio del drone invece non è così vedete che se andate a selezionare 4k 30 fps tutto funziona benissimo attualmente con il 4k passante fps questa funzione a pass viene disabilitata non so se con gli aggiornamenti futuri e cambierà probabilmente sì ma attualmente così non è un malfunzionamento che magari pensate che cavoli non funziona la funzione a passare mi funziona solo il rinnovamento degli ostacoli no non è così provate a mettere il 4k 30 fps e vedete che funziona tutto benissimo quindi ragazzi se questo piccolo test in cui vi ho portato questo piccolo limite che ha attualmente il mavic air 2 riguardante appunto questa funzione a pass disabilitata con il 60 fps vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su seguitemi su instagram iscrivetevi a telegram offerte se l'avete ancora fatto e se vi va ovviamente iscrivetevi a questo canale youtube per non perdermi neanche un video un volo una recensione un testo tutorial e novità ciao